Con il nostro ospite in studio andiamo ora a scoprire e soprattutto a toccare con mano la nuova Hyundai i30 la compatta della casa coreana lanciata da poco anche in Italia Entriamo subito nel vivo di questo approfondimento in studio vado subito a presentare il nostro ospite di oggi un caloroso benvenuto ad Andrea Crespi direttore generale Hyundai Motor Company Italia Buonasera Andrea Buonasera Alessio, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori Grazie, come sempre i nostri ospiti ci accompagnano con delle vetture questa volta Hyundai è qui presente con la i30 ed è una i30 Andrea decisamente rinnovata con tanti contenuti nuovi a livello tecnologico poi andremo a scoprirli insieme e partirei subito dal profilo stilistico Questa vettura ha come identificazione quello che diventerà un po' il family feeling di tutto il prodotto Hyundai che è la Cascading Grill che è questa griglia frontale che è molto abbassata e che è un po' la firma del design e dello stile di questa vettura All'interno ormai al giorno d'oggi un'auto non può farsi mancare nulla anche nelle vetture cosiddette più piccole del mercato quindi direi che anche da questo punto di vista avete lavorato molto tanta tecnologia e anche forse un comfort più elevato rispetto al passato Si è lavorato tantissimo e devo dire che rispetto al passato sono fatti passi avanti da gigante questa vettura la reputo sotto il profilo diciamo dello spazio della tecnologia di bordo e diciamo di tutti i sistemi di assistenza alla guida molto più vicino a quello che è il progetto Ionic la nuova Ionic oppure la Tucson quindi veramente un livello di riferimento per il mercato che non ha niente a che invidiare a prodotti più noti o che hanno venduto di più negli anni passati qui abbiamo uno spazio di bordo che è al vertice della categoria sia per lo spazio combinato tra spalle e gambe sia per la capienza del bagagliaio che raggiunge 395 litri diciamo in posizione con lo schienale non reclinato quindi direi ampissimo spazio, ampissima versatilità e tanto tanto comfort a bordo Giusto per fare un esempio, tecnologie che oggi non possono mancare per esempio possiamo citare la telecamera per il parcheggio piuttosto che... Sì, ci tengo a citare il fatto che questa vettura innanzitutto ha dei sistemi di sicurezza attiva sia proprio anche nei modelli base quindi di serie a per esempio quello che viene chiamato l'assistenza della frenata di emergenza quindi il fatto che la vettura ti fornisce degli strumenti di assistenza attiva e di sicurezza che non devi prendere nella vettura diciamo più cara o forse quella più completa ma che già a livello di serie ti fornisce degli strumenti di questo tipo per esempio il fatto che ti aiuta a verificare se il guidatore è in posizione attiva e attenta e se no ti manda dei messaggi di allerta ecco tutti i sistemi che combinati a quelli della navigazione della connessione degli smartphone fanno di questa vettura veramente come dicevo prima sia dal punto di vista del comfort, della sicurezza e della connettività un punto di riferimento del mercato L'infotainment, cioè tutte quelle che sono le peculiarità di utilizzo a bordo del proprio telefonino dell'ascolto della musica cose direi importanti ma anche forse ormai imprescindibili sono imprescindibili nel senso che ormai sono le aspettative di chi guida una collettura di questo livello quindi interagire con la navigazione satellitare qui abbiamo un 8 pollici posizionato sulla console centrale che ti aiuta in maniera molto intuitiva molto facile a servirti di tutta la parte della navigazione ma direi anche di interagire con la tua musica che magari porti sullo smartphone o interagire con tutti quelli che sono i messaggi sempre in sicurezza, sempre con gli occhi sulla strada attraverso quelle che ormai sono delle tecnologie per noi direi quasi scontate su vetture di questo tipo come l'Apple Cup Play la compatibilità con i sistemi Android senza dimenticare il fatto che ci sono dei servizi di mobilità e di connettività dati dal TomTom Live che ti informano su quelli che possono essere gli autovelox le condizioni di traffico magari anche i punti di interesse che uno vuole andare a ricercare su internet inoltre mi piace sottolineare una cosa importante di questa vettura come un po' tutta la gamma Hyundai oramai c'è il problema dell'aggiornamento anche delle mappe dei navigatori ecco qui abbiamo sostanzialmente un servizio direi quasi esclusivo la vettura verrà aggiornata a 10 anni dall'uscita di produzione quindi noi lo chiamiamo lifetime per tutta la durata di utilizzo della vettura di un aggiornamento MAP basta andare dal concessionario Hyundai e c'è l'aggiornamento con la release più recente a disposizione Senti, citavi prima un aspetto interessante una vettura che è una i30 che sul frontale è anche più ribassata adesso magari anche le immagini che scorrono in sovraimpressione ci danno una mano per comprendere al meglio come dire anche un po' un'iniezione di sportività che è stata data alla vettura ti chiedo, tutto questo è stato trasferito anche sul fronte delle motorizzazioni? Sì, le motorizzazioni anche qui siamo molto attenti a quello che è l'esigenza della clientela di questo segmento quindi direi che abbiamo uno spettro o una disponibilità di motorizzazioni che è assolutamente perfetta per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza quindi abbiamo i due benzina il 1000 che sviluppa 120 cavalli che direi è una motorizzazione estremamente interessante nuova anche qui per tantissimi clienti abbiamo il nuovo motore da 140 cavalli il 1400 benzina e poi tutta la motorizzazione diesel che va in tre potenze 95, 110, 136 cavalli con il motore turbodiesel 1600 direi classico che svilupperà probabilmente il maggiore ambito dei volumi Sei da ormai diverso tempo nell'orbita Hyundai abbiamo avuto, lo dicevamo anche all'inizio l'opportunità in questi ultimi anni di affrontare insieme tutte quelle che sono state tutte quelle che è stata la crescita del brand che rappresenti in sintesi cosa possiamo dire a chi ci sta secondo la casa quali sono stati secondo te i passi più importanti che Hyundai ha fatto e cosa invece ci aspetta per il futuro? Sicuramente l'aspetto chiave è stato l'allargamento importante e continuo a cui tra l'altro avete contribuito anche voi di Safe Drive la conoscenza del brand il fatto che è arrivato tantissimo nuovo prodotto questo è il secondo aspetto chiave il fatto di avere una forza nel prodotto di estrema qualità protetto sempre dai 5 anni di garanzia a chilometri limitati che è la miglior garanzia che c'è nel mercato ecco queste conoscenze di sostanza e di poterle avere affermate e portate a una base clienti estremamente ampia credo che sia il lavoro più grande che abbiamo fatto in questi anni ovviamente siamo stati assistiti da successi direi importanti come quello della Tucson come quello degli 10 e vogliamo proseguire con tante altre novità che ci apprestiamo a mandare sul mercato a partire dall'allargamento della famiglia I30 perché qui abbiamo la 5 porte ma in realtà l'I30 non è una sola macchina è una famiglia di vetture arriverà presto la Vagon e ci saranno tante altre sorprese entro la fine dell'anno un grazie ancora ad Andrea Crespi direttore generale Hyundai Motor Company Italia e noi proseguiamo pure con la trasmissione